Ci sono due migranti feriti tra quelli arrivati questo pomeriggio a Pozzallo. Portano i seni di colpi di arma da fuoco su cui gli agenti della squadra mobile di Ragusa stanno indagando. In arrivo nel porto siciliano, dopo i 481 già sbarcati ieri, ci sono altri 230 migranti. Le indagini serrate della polizia hanno permesso di individuare i primi quattro scafisti, che hanno tra i 21 e i 24 anni, mentre altri quattro, tra cui i tre minorenni, sono in corso di identificazione. Durante le operazioni di accoglienza, i testimoni hanno raccontato agli investigatori di essere partiti dalla Libia a bordo di quattro gommoni e di aver viaggiato sempre insieme, fino al salvataggio grazie alle labi della marina militare. Per il viaggio hanno detto di aver pagato mille dollari ciascuno.